Questa qui è una ceria che l'ho trovata andando su internet, che vendono un prens, che è un dolce e che l'ho trovato andando il fernello. Sono arrivato, partendo da Porta Garibaldi e arrivando con la metro specialistica. E questo è quanto il vecchio percorso che faccio. Vi saluto. Vi saluto. Grazie. 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 Grazie.